Ose Macin, arriva questa gara con l'Ascoli, la gara che potrebbe, dovrebbe regalare la salvezza matematica al Pescara? Sì, è una partita molto importante, un momento delicato della stagione, sia per loro o per noi, dobbiamo trovare questo risultato che ci dà la salvezza matematica. Una gara decisiva per l'Ascoli, al Pescara potrebbe andare bene, almeno in partenza anche il pareggio? No, noi come abbiamo fatto tutte le partite giocheremo per vincerla, chiudere al meglio la stagione nel nostro stadio e cercare di vincere dal primo all'ultimo minuto. Incontrerete però una squadra che verrà allo stadio adriatico per giocarsi il tutto e per tutto, Ascoli, che è reduce da quattro risultati utili consecutivi? Sì, è chiaro che loro, poi col suo allenatore, che l'ho avuto io un periodo, verranno qua ad andare tutto, con la grinta che lo caratterizza lui, ma noi pure veniamo da buoni risultati, quindi ci sarà una bella partita. All'andata non si giocò al Del Duca una gara spettacolare, finì 1-1, questa volta cercherete di regalare ai tifosi una vittoria per chiudere bene la stagione, almeno allo stadio adriatico? Sì, chiaro. Questa stagione è stata un po' difficile per la squadra, per i tifosi, per la società, quindi chiuderla al meglio sarebbe una cosa positiva, pensando nella prossima stagione. Jose Machin sta chiudendo la stagione davvero in grande condizione, stai giocando titolare da diverse gare, hai trovato anche qualche gol? Sì, chiaro, quando uno ha l'opportunità di trovare la continuità e giocare, poi se la squadra va bene è anche meglio per tutti, quindi speriamo che continua, peccato che arriva la fine in questo momento, ma bisogna essere contenti. Oggi firmeresti per tornare a giocare anche nella prossima stagione ad indossare la maglia del Pescara? Una cosa che la potrei dire dopo il 18, mi sa che l'ultima partita, lì quando siamo già salvi matematicamente, anche se succede sabato, una cosa che potrei dire se sì o no.